scuola ex morselli intitolata a daniele tagliolini lavori all'ex intendenza attività della piazza ingabbiate giovani e guida sicura patto interforze per prevenire incidenti coro san carlo compie 40 anni e cerca nuove voci la provincia celebra la festa della donna fra diritti e cultura buona serata a tutti voi amiche e amici di rossi ben ritrovati in una nuova edizione del nostro telegiornale rossini news notiziario di martedì 7 marzo siamo a pochi giorni dal primo anniversario della scomparsa dell'ex presidente della provincia di pesaro urbino nonché ex presidente di marche multiservizi daniele tagliolini e a pochi giorni da questo anniversario il comune di pesaro ha deciso di intitolare una scuola della città all'ex morselli proprio alla memoria di tagliolini vediamo i motivi che hanno portato a questa intitolazione nel nostro primo servizio a un anno dalla sua scomparsa la giunta comunale di pesaro ha deciso di intitolare a daniele tagliolini l'edificio scolastico ex morselli di viale 11 febbraio appartenente all'iceo mamiani e riaperto lo scorso settembre dopo anni di lavori un riconoscimento che pesaro ha voluto tributare al sindaco di peglio presidente della provincia di pesaro urbino e presidente di marche multiservizi a pochi giorni dal primo anniversario della scomparsa datata 10 marzo 2022 quando all'epoca tagliolini aveva appena 44 anni una decisione quella del comune di pesaro particolarmente applaudita dal presidente della provincia di pesaro urbino giuseppe paolini che è stato il principale promotore della proposta alla memoria di tagliolini viene infatti dedicato un edificio non casuale ovvero l'ex morselli la cui riqualificazione parti proprio grazie alle risorse riperite durante i suoi anni da presidente della provincia il sindaco matteo ricci e l'assessore all'innovazione francesca franco e luci hanno spiegato come si sia voluto intitolare all'amico amministratore un edificio in linea ad un uomo che ha sempre scommesso sul futuro ambientale sulla green economy sull'innovazione e sulle nuove generazioni la cerimonia di intitolazione è stata fissata per sabato primo aprile da ieri è cominciato a cambiare il volto di piazza del popolo con i ponteggi che stanno bardando il palazzo dell'ex intendenza di finanza per un intervento dell'agenzia del demanio atteso da anni e dal valore di 7 milioni di euro che convoglierà nella riqualificazione del palazzo di smesso da dicenni tanti uffici sparsi per la città come commissione tributaria ragioneria dello stato o ispettorato del lavoro e dunque da ieri barge lateria negozi ed edicola alla base di questo sono forzatamente chiusi per l'allestimento dei ponteggi che si concluderà nella giornata di venerdì in palcature che però lo ricordiamo caratterizzeranno tutto il 2023 per un cantiere che dovrebbe concludersi a gennaio durante i lavori il cantiere verrà però coperto da un telo griffato dai loghi di pesero 2024 e da uno schermo in cui si alterneranno le informazioni e gli appuntamenti del territorio comune di pesero unione pian del bruscolo polizia locale questura prefettura università e croce rossa tanti soggetti uniti da un unico obiettivo la sensibilizzazione fra i giovani alla prevenzione agli incidenti stradali e soprattutto ai rischi alla guida in di ebrezza è un progetto che parte già da diversi mesi fa quando l'assessore alla sicurezza era riccardo polsi che continua insieme a me a coordinare il progetto è un bando del ministero di 287 mila euro che coinvolge tutte le istituzioni della prefettura alla questura la croce rossa alla polizia locale e vuole sensibilizzare i giovani sul tema della della sicurezza stradale dei pericoli che si corrono magari facendo uso di sostanza esagerando con con gli alcolici è un progetto a tutto tondo che in qualche modo coinvolgerà coinvolgerà le scuole coinvolgerà gli artisti e avrà una sua giornata una sua giornata finale al parco miralfiori un contenitore che vogliamo valorizzare quindi anche questo evento insomma avrà come come palcoscenico il parco miralfiori e ci auguriamo di avere in in questo periodo di di interventi tanti ragazzi che parteciperanno con con entusiasmo e che riusciremo poi tutti insieme a trasmettere un messaggio positivo un progetto di squadra che nasce durante i mesi della pandemia quando la presidenza del consiglio dei ministri emana un bando per per riprendere quell'attività di informazione sensibilizzazione per prevenire nei confronti di di un fenomeno che abbiamo visto purtroppo essere tanto attuale quello dell'incidentalità stradale correlata all'uso di alcol e di droghe abbiamo quindi sviluppato sin da subito insieme a croce rossa e gli altri partner che sono la prefettura l'università di urbino e l'unione pian del bruscolo un progetto proprio volto ai rivolte ragazzi rivolte ragazzi in particolare delle scuole superiori e dell'università con una serie di iniziative volte a informare formare e prevenire e quindi andremo anche a fare un'attività se vogliamo emotivamente forte d'impatto per cercare in qualche modo di stimolare quel tipo di di cultura di di attenzione nei confronti di un fenomeno purtroppo come dicevo ancora attuale è un progetto di tipo integrato e ritengo abbastanza innovativo perché va sul campo esperienziale cioè vogliamo suscitare una reazione e in questi studenti è una riflessione come dicevo prima per alzare un po lo sguardo su quello che possono essere le conseguenze delle nostre azioni in questo caso mettersi alla guida e sotto l'effetto di alcol o sostanze stupefacenti e restiamo in tema di giovani ma per un altro motivo parliamo di stage e percorsi formativi per gli studenti all'interno delle aziende del territorio a questo scopo il rapporto di collaborazione che è stato siglato ieri fra l'università di urbino e il mobilificio imab di fermignano la ricerca di spazi di confronto e di progettazione comune tra studenti universitari aziende del territorio è servita da stimolo per la sottoscrizione di un accordo quadro tra l'università di urbino e una grande impresa locale come l'imab di fermignano due importanti realtà responsabili di offrire ai ragazzi l'opportunità di avere un futuro stimolante gratificante nel momento in cui verrà terminato il percorso di studi e ci si affaccerà al mondo del lavoro collaborazione che dunque si struttura con imab un'impresa che registra una crescita costante nel suo mercato quello del mobile dell'arredamento per cucina living e zona notte contando sotto di sé circa 800 dipendenti abbiamo la responsabilità di creare le condizioni affinché tornando a urbino o rimanendoci per carità ci sia ugualmente per questi nostri ragazzi un futuro stimolante un territorio che gli possa dare la possibilità di fare una carriera brillante già quando sono studenti devono poter comprendere bene quali sono le dinamiche aziendali qual è la vita in azienda quali sono le prospettive possibili per loro e quindi già nel triennio per magari poi scegliere una magistrale che sia più nelle loro corde più vicina a quelle che poi sarà la loro aspettativa per il futuro fa bene anche alle imprese in termini di innovazione che loro possono sviluppare ma anche fa bene per i rapporti che si rafforzano appunto e permettono poi ai nostri studenti di entrare meglio in relazione con il mondo del lavoro attraverso esperienze anche prima della conclusione del percorso di studi per esempio attraverso degli stagi o anche la realizzazione della tesi di laurea che permette agli studenti di farsi conoscere, conoscere l'impresa e in questo modo creare appunto dei punti di contatto che possano permettere e facilitare l'inserimento del mondo del lavoro Quali corsi universitari saranno prettamente coinvolti in questo progetto? Principalmente quelli di economia perché le tematiche sono molto vicine con gli interessi dell'impresa ma ci sono anche altri corsi che riguardano discipline per esempio più specialistiche mi riferisco per esempio ai corsi di geologia dove ci sono esigenze di esperti sui materiali che possono essere poi utilizzati anche nel settore dell'arredamento come nel caso dell'impresa con cui stiamo facendo l'accordo Dopo anni di semina, tra virgolette, anche il mondo imprenditoriale sta avvicinando il nostro Ateneo perché insieme riusciamo a portare avanti i progetti per il bene di entrambi i partner perché i progetti riguardano la formazione, la ricerca e quindi è questo collaborare insieme che permette di far crescere entrambi. È vero che l'obiettivo nostro è quello di garantire ai nostri studenti le possibilità di trovare lavoro, quindi la nostra formazione è una formazione che fornisce gli strumenti non solo le competenze, però già adesso abbiamo i dati di Alma Laurea che ci dicono che a tre anni dalla laurea dalla laurea abbiamo una quota di nostri laureati che sono già occupati magari con contratti a tempo determinato, però è una quota superiore alla media nazionale Importante scoperta archeologica a Fano dove nell'ambito di alcuni lavori edili in centro sono emersi dei resti relativi a un edificio pubblico di epoca romana collocato in affaccio al foro cittadino Si tratta di un complesso databile a 2000 anni fa, costituito da almeno 5 ambienti i cui muri, conservati in alzato per circa 2 metri, sono rivestiti in malta di calce e lastre di marmo Sono state parzialmente messe in luce anche le relative pavimentazioni Il complesso è stato interessato almeno da due ulteriori fasi di vita in epoca medievale di cui sono state ritrovate alcune tracce, strutture murare, focolari, frammenti di ceramica invetriata E parliamo di teatro perché continua la stagione, la ricca stagione di Amat che dal prossimo 9 marzo fino al 12 di marzo prevede al teatro sperimentale di Pesaro la vita davanti a sé, portata in scena dall'interpretazione e dalla regia di Silvio Orlando che porta sul palcoscenico di Pesaro il romanzo di Roma e Gheri pubblicato nel 1975 e adattato per il cinema nel 1977 Primo appuntamento allo sperimentale giovedì sera alle 21 Un ospite davvero stellare, proprio il caso di dirlo, alla parrucchieria stile capelli nonché air stylist di Rossini TV che nei giorni scorsi ha accolto nel suo salone pesarese di Via Ronconi la popolare showgirl Valeria Marini, reduce da un evento a Rimini ma che ha scelto la cura di Davide Ziccarelli, specialista nella cura del capello biondo come il trattamento Blonde Star richiesto dalla stessa Valeria Marini Continua dunque la vocazione alle acconciature per celebrities per Ziccarelli di stile capelli dopo l'esperienza nel dietro del quinte dell'ultimo festival di Sanremo E passiamo a Coffcommercio Marche Nord che lancia una nuova proposta enogastronomica si chiama a cena con la mamma e alla taverna del pescatore di Casteldimezzo proporrà tre serate nel mese di marzo tre serate il cui significato ci viene illustrato dai protagonisti di questa iniziativa Faremo delle serate in cui noi che siamo il ristorante che ospita la Rassegna faremo le nostre ricette tradizionali nella prima serata Nella seconda faremo un menù con delle ricette nostre e soprattutto le ricette di Teresa che è stata la cuoca dell'hotel Principe Stella Michelin qui a Pesaro mentre nella terza serata avremo come ospite la cuoca del ristorante Cucina di Alettale di San Costanzo da Rolando e mischieremo sempre un po' di ricette nostre con ricette di questa signora e in questo caso avremo un po' di ricette di mare e un po' di ricette di terra Abbiamo pensato di creare questa iniziativa che spero che sia solo al primo anno di continuarla anche nei prossimi anni per dare un riconoscimento alle mamme che con la loro passione per la cucina hanno creato dei ristoranti, diciamo, dalla cucina di casa hanno saputo portarla a un livello più alto nella cucina di un ristorante una di queste è la mia, mamma, ma ce ne sono tante altre per cui abbiamo pensato di iniziare a fare questa rassegna di cui questo spero sia il primo anno e di andare avanti nei prossimi anni Io sono un po' il filo conduttore di queste serate essendo anche figlio di mamma Teresa faccio una serata chiaramente dedicata a lei che non c'è più ma questo vuol dire di valorizzare non solo le mamme quando valorizziamo le mamme valorizziamo il territorio valorizziamo il nostro sapere, le tradizioni oggi le tradizioni vengono un po' spente nel senso che c'è un'omologazione della ristorazione io credo che questa non sia un'operazione di nostalgia ma sia veramente una nota in più per dare spunto alla ristorazione di togliere magari tante cose che vengono dai tropici o dai sali inusuali ecco invece bisogna ritornare veramente alla tradizione una tradizione fatta bene, magari sgrassata magari presentata in un modo migliore e un abbinamento con i vini che mi compete da sempre e quindi un giusto abbinamento perché il vino è un alimento è un alimento liquido che si sposa a un alimento solido quindi tutto questo fa parte di una cultura nostra che abbiamo qui nel nostro territorio che abbiamo noi italiani nessun'altra parte del mondo parla di ristorazione di abbinamento cibo-vino questo vuol dire anche che noi siamo i primi e i migliori sul cibo non dobbiamo scemmiottare tutto il resto del mondo ci stanno assalendo con dei prodotti inusuali che noi non dobbiamo assolutamente accettare il primo è venerdì 10 a cena il secondo venerdì 17 e il terzo è venerdì 24 nel mese di marzo domani è mercoledì 8 marzo l'intera provincia di Pesaro Urbino è pronta a celebrare la festa della donna attraverso un ricco programma di iniziative che andiamo a scoprire in questo servizio la provincia di Pesaro Urbino celebra l'8 marzo sottolineando i valori di libertà diritti e cultura propri della festa della donna tante iniziative in tutta la provincia a cominciare da Pesaro dove alle 10.30 a Pesaro Studi saranno consegnate borse di studio del comune a quattro studentesse del corso universitario Green Industrial Engineering a cui seguirà alle 11.30 in municipio parole per l'8 marzo celebrando Franca Mercantini con letture di poesia alle 17.30 alla Biblioteca Oliveriana si discuterà della narrazione nella costruzione del sé femminile e alle 21 nella chiesa dell'Annunziata si terrà il concerto rosa La Voix Humaine dell'Orchestra Olimpia 8 marzo fra teatro e musica anche a Vallefoglia con il concerto dal titolo Mina quando l'arte è donna in programma al Teatro Branca di Sant'Angelo in Lizzola alle ore 21 spettacolo dedicato a Mina con testi e regia di Claudio Salvi narrazione di Francesca Modugno con voce di Clarissa Vichi e musica del trio The Sound Messenger dal teatro di Sant'Angelo in Lizzola a quello di Gradara che alle 21 proporrà Memoria Indifferente le donne della Resistenza di Gianluca Fogliazza con le musiche di Emanuela K a Fermignano invece andrà in scena allo spettacolo V.agina di e con Giulia Bellucci a Fano a Paricentro verrà inaugurata alle 18 la mostra Svelarsi seguita dalla performance di teatro pedagogico inclusivo Immaginazioni Vive all'Università di Urbino domani alle 10.30 nell'Aula del Rettorato sarà premiato il concorso fotografico L'abito non fa il genere che darà il via a due mostre correlate nella Biblioteca San Girolomo 8 marzo fra scuole e valori sindacali nella chiesa di San Filippo di Fossombrone con gli studenti dell'Istituto Donati che presenteranno il progetto coordinato da CGL Storie di Filandaie a Fossombrone Nelle scorse settimane vi abbiamo trasmesso il concerto dell'Epifania dedicato ai 40 anni del coro San Carlo di Pesaro domani alle 21.20 a tal proposito trasmetteremo uno speciale dedicato a questo quarantesimo anniversario che non è un punto d'arrivo ma è il propulsore alla ricerca di nuove voci per i protagonisti del coro che abbiamo avuto ospiti oggi nei nostri studi Siamo qui per due motivi in primis per lanciare lo special lo special che abbiamo realizzato grazie a Rossini TV per il quarantesimo del coro San Carlo registrato il 6 gennaio quindi ci sono le piccole strati musicali del 6 gennaio e poi c'è anche un backstage quindi si vede la nostra sala prove ci sono alcune interviste in cui si parla della nostra storia in cui si racconta chi siamo chi è il coro San Carlo oggi chi era il coro San Carlo ieri e quindi sono 20 minuti proprio per una full immersion a tutto tondo sulla vita di questo gruppo corale pesarese che veramente 40 anni fa forse non si poteva neanche immaginare dove poi sarebbe arrivato nel corso del tempo insomma ecco e poi cosa succede in corrispondenza proprio di questo lancio di questo special tv è anche per noi il periodo di aprirci alla città di Pesaro così come anche a tutta la provincia o a chi lo desidera per la ricerca di nuove voci questo è un appuntamento abbastanza fisso nel corso degli anni a volte una volta all'anno a volte due volte all'anno a seconda del tempo e ora che poi abbiamo già da tempo ripreso pienamente l'attività dopo le problematiche legate al covid abbiamo proprio il grande piacere di poter invitare tutti quelli che lo desiderano a scriverci o a contattarci ai nostri recapiti corosancarlo chiocciolagmail.com oppure al numero telefonico 3406173342 e semplicemente lasciare il proprio disponibilità come funziona è molto semplice entrare nel coro san carlo si fa una piccolissima audizione attitudinale a porte chiuse in cui si verifica se c'è un po' di musicalità un po' di orecchio ma non è richiesta la conoscenza progressa della musica anzi questa abbiamo visto che nel tempo piuttosto è una competenza che si impara anche fura di fare proprio nella bellezza del nostro lavorare insieme due volte a settimana ecco appunto quindi noi lavoriamo il lunedì sera e il mercoledì sera dalle 21 alle 23 nella nostra sede storica sempre quella in via Confalonieri 9 sotto la nel locale della circoscrizione di quartiere e quindi poi chi lo vorrà appunto potrà recarsi lì e in un attimo facciamo questa piccola audizione se la cosa va bene naturalmente si può subito iniziare un periodo di prova che dura alcuni mesi e poi si entra ufficialmente in organico nel coro San Carlo sono appunto uno dei nuovissimi arrivi ho fatto praticamente quattro mesi all'interno del coro da novembre tenendo conto che c'è stata una piccola pausa a gennaio e quello che ho vissuto è stata sicuramente un'esperienza a dire poco sensazionale perché ciò che ho colto subito dall'inizio è la grande professionalità dei maestri perché ti fanno subito entrare all'interno del meccanismo di quello che è appunto il coro con l'analisi delle varie parti musicali quello che potrebbe essere un cenno storico relativo alla parte musicale che si sta affrontando e invece dopo quello che si vive dopo le prime esperienze sicuramente è quello che è il vero cantare in coro quello che è lo stare insieme agli altri e quello che si può comprendere maggiormente è l'essere una così piccola parte ma anche così importante e quello che diciamo si può questo si può capire maggiormente all'interno di quella che è l'esibizione sicuramente la cosa che poi si percepisce è che il coro non ha età il coro non ha età infatti è bello cercare di condividere questo ideale musicale e non solo con altre persone che possano essere di tutte le età certo noi abbiamo avuto adesso a che fare all'interno di un coro dove molto spesso chi ci lavora chi ne fa parte è gente che ha smesso magari un lavoro gente in pensione ma ciò non deve bloccare assolutamente i giovani chi magari ancora studia o chi magari anche lavora per cercare di eguagliare conciliare questa esperienza diciamo l'esperienza più pratica del lavoro con quella invece che è quella musicale che essendo la musica la colonna sonora diciamo della vita di ciascun uomo non può mancare all'interno anche di qualunque essere umano e si conclude qui questa nostra edizione del telegiornale Rossini News ma ricordiamo per chi ci segue nella prima edizione delle 19.40 che subito dopo alla fine del TG alle 20.10 vi proporremo lo speciale informativo dedicato alla Fano gastronomica 10 tappe a miglio 0 nei ristoranti di Fano le scopriremo attraverso uno speciale di questi 10 appuntamenti che partono proprio domani 8 marzo e continueranno nella città di Fano fino al 18 di maggio a seguire la nostra prima serata prosegue alle 21.20 con Cycling Land TV il format settimanale di ogni martedì dedicato al mondo della bici da strada e-bike MTB e molto altro come detto appuntamento alle 21.20 e poi a seguire vi riproponiamo ancora una puntata del format story racconti di successo nella provincia di Pesaro e Urbino alle 22 questa sera vi riproporremo la storia di Paolo Baronciani presidente della Diva nota azienda di concessionari di automobili l'appuntamento come detto alle 22 ma poi ci sono le repliche giovedì alle 15.15 sabato alle 19 e domenica alle 12 e poi l'informazione su Rossini TV torna puntuale domattina come sempre in diretta dalle 7.20 con Buongiorno Rossini la nostra rassegna stampa che vi tiene compagnia dal lunedì al sabato rassegna stampa del mercoledì che sarà condotta dalla nostra direttrice Emanuela Rossi ed è invece davvero tutto per questo spazio informativo della Sera Rossini News vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata in compagnia dei nostri programmi grazie a tutti